Ciao a tutti ragazzi, in questo breve video vi faccio vedere come suona la 147 diesel dopo aver montato il downpipe e lo scarico aperto, quindi senza silenziatore essendo un diesel la differenza non è sostanziale, però diciamo che qualcosina già si sente, oltre a ciò ho montato anche un filtro in cotone a pannello che influisce leggerissimamente però qualcosina fa detto questo ragazzi vi ricordo sempre di lasciare un pollicione in su al video, di iscrivervi al canale, di non perdervi i prossimi video seguendomi sulla mia pagina facebook vi ricordo anche come nei precedenti video che domani sarò presente al Motor One Days, quindi potremo conoscerci e infine vi ricordo che è una modifica non legale, quindi se doveste andarci in giro vi multerebbero detto questo vi lascio al video adesso proviamo a fare un giretto si sente parecchio la turbina è la prima volta tra l'altro che che utilizzo il montaggio la come dire la GoPro sulla testa quindi sto andando in giro con la GoPro sulla testa quindi vi aspetto che mettiate tanti pollicioni in su anche solo per questa cosa è la prima volta che vediamo in giro con la testa Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ho avuto un pochino di sprint, spero che mi sentiate bene, adesso infatti la gente mi guarda abbastanza strano.